Ce l'abbiamo altre due o tre domani? C'era un paio di domande per Luca, non so. Luca, continuano i paragoni Conte e Inzaghi. Non sei stufo di questa situazione? Esatto. Sono stufo di questa situazione. Ma tanto ci saranno anche quando Inzaghi andrà via dall'Inter. Vivrà sempre di sto confronto. Sono stufo di questa situazione perché comunque sono due situazioni completamente diverse. Poi uno può dire che è meglio uno e meglio l'altro. Io non sono qui a dire che Conte non sia bravo, anche se al Tottenham comunque non mi pare che stia facendo chissà cosa. E' là che si lamenta che non gli compro, lo dice Caio Sempronio. Ma la situazione proprio dell'Inter, della squadra, è completamente diversa. Nel momento in cui Conte è andato via, l'Inter ha iniziato un lento ma costante declino, un lento ma costante livellamento verso il basso, non verso l'alto. Non è andata migliorando, è andata peggiorando. Con questo non voglio dire che l'Inter sia una squadra che fa schifo, ma la squadra che aveva in mano Conte era nettamente più forte di questa. Diciamo che Conte era in un momento in cui l'Inter era di Moratti, poi è andata a Tojera. Da Tojera si è andata ai cinesi. I cinesi in quel momento non era come dopo, abbiamo i problemi, il gaspende. In quel momento andava verso l'alto l'Inter, tanto più che io l'ho presa anche come esempio. Ma anche se ci mettiamo a parlare di uomini, cioè di uomini, 3-5-2, schema che adottano sia Conte che Inzaghi, 3-5-2 sono fondamentali le ali, le fasce. Uno c'aveva Peris e Ciacchimi, quell'altro adesso è lì che gioca con Zunfris e Gosens, che con tutto il rispetto non sono due schifette, ma non sono neanche paragonabili. Cioè di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Poi se uno mi dice l'Inter non può essere a 15 punti dal Napoli, sono d'accordo, gli do ragione. L'Inter non può essere a 15 punti dal Napoli, dovrebbe, se vuoi essere dietro al Napoli, devi comunque essere lì, a morsargli nei garetti, a meno 5, meno 6, ancora con la speranziella. Ma è un'Inter più scarsa di quei punti. L'Inter secondo me ha pagato troppo la mancanza di Lukaku e i suoi livelli. Ma quest'anno, ragazzi, ma quest'anno l'Inter ha giocato fino adesso sempre senza Lukaku e Brozovic. Ma sono due giocatori importantissimi, non è che gli mancavano i Gagliardini e Aslan. Ancora, basta, Gagliardini. Anche tu hai detto Achimi e Perisic, giusto? Però Perisic, la prima parte della sua carriera all'Inter non è stata una carriera... No, no, poi però dopo... Quindi anche lì lui ha messo mano, cioè la bravura dell'allenatore, come poi aveva fatto Spalletti, capito? Allora, diciamo che la situazione Perisic è stato bravo Conte, ma ha avuto anche del culo, perché Conte, quando è arrivato all'Inter, Perisic in estate ha detto lo metto lì, non va bene, lo metto in seconda punta, non va bene, amico mio vai al Bayern Monaco. L'ha cacciato il Bayern Monaco. Poi Perisic non è stato riscattato a un prezzaccio, perché il prezzo di riscatto era 10-12 milioni. E poi ha vinto, mi sa... Triplette, triplette. Poi se l'è ritrovato, perché il Bayern Monaco non l'ha riscattato, se l'è ritrovato in casa e al secondo tentativo è stato bravo e Perisic è diventato il Perisic, che tutti adesso conosciamo. Ma il primo Perisic, Conte l'ha preso, l'ha mandato a Bayern Monaco, che non lo voleva. Sì, ma poi è arrivato, ha preso i cardi, l'ha mandato via. Di Marco adesso non è un fenomeno, però è un buon giocatore, è entrato comunque in pianta stabile nazionale, sta facendo bene, Di Marco Conte non l'ha voluto, vai pure a Verona, gli ha detto. Ma è che in zaghi Di Marco l'ha valorizzato. Poi è ovvio che Di Marco non è Perisic, di cosa stiamo parlando. Mi è venuto in mente questo tema, perché comunque Brozovic adesso è tornato, c'è la Noglu gioca bene, tutto quanto, però ammazza te ragazzi. Diciamo che ieri non è entrato Aslani perché è entrato Gagliardini. Esatto, è entrato Gagliardini addirittura. Gagliardini è come le sirene per Ulisse, perché negli anni è riuscito a incantare Spalletti, è riuscito a incantare Conte, riesce ancora ogni tanto a incantare in zaghi. Nemmeno io dico la verità, capisco perché Gagliardini e non Aslani, anche perché veramente Aslani è un giocatore che, giovane, l'hai preso, devi farlo crescere, dargli qualche opportunità. Gagliardini è un giocatore che va in scadenza, sappiamo già che ci separeremo a fine stagione. Forse. Non capisco, no, no, non c'è speranza. Non capisco. Detto questo, ieri non siamo riusciti a goderci la vittoria, perché gli interisti si sono tutti arrabbiati, nonostante... Eh, ma perché? Non ha fatto giocare Aslani, ha fatto entrare Gagliardini. Voglio ricordare che anche il precedente Conte, e qui purtroppo vengono sempre fuori i paragoni che non voglio comunque fare, Conte, alla finale di Europa League, Siviglia-Inter, Conte lasciò in panchina Eriksen e fece giocare titolare Gagliardini. Quindi, cioè, non è una roba di inzaghi... Gagliardini riesce a incantarli tutti, non so come fare, ma riesce a incantarli tutti. C'è anche caso che sto ragazzo negli allenamenti forse qualcosa di mostri. Forse. Probabilmente sì. Non sappiamo cosa, può essere. Senti l'Inter, come l'hai vista, settimana di lavoro tranquilla, non ci sono partite di mercoledì, quindi... La solita Inter in casa, che quando gioca in casa, di solito, tranne l'Inciampino con l'Empoli, che comunque è stata partita condizionata, siamo rimasti in dieci dopo venti minuti, e quindi... Però l'Inter di solito in casa queste partite qui le porta a casa tranquillamente, giocando bene, senza rischiare. Onana ha fatto una parata in novanta minuti, non abbiamo rischiato niente dietro. Potrebbe essere un nuovo inizio in quelle partite che spesso hanno faiato l'Inter. Inzagli ha detto, ne abbiamo parlato parecchio, dopo Bologna, chissà, e magari a livello mentale qualcosa non si è sistemato. Alla Spezia, la prossima partita, venerdì, all'ennesima prova del 9, contro una squadra di bassa classifica, dove vedremo se riusciremo a fare un filottino di qualche partita consecutiva, o ci fermiamo già alla Spezia, tirando nel cesso tutto quello di buono che abbiamo fatto con il Lecce, lo scopriremo solo vivendo. Va bene, possiamo andare con assoluta karma perché abbiamo l'ostico pronostico, coppe e campionato. E quindi andiamo verso la conclusione di quest'altra bella serata su Teleromagna con cartellino giallo, con l'ostico pronostico. Ottico pronostico, coppe e campionato, coppe, mi date anche Bayer-Paris-Saint-Germain, non lo so, vediamo. Ah beh, no, c'è anche la conference ovviamente. Eh beh, che fortuna. Frisburgo no però ragazzi, avete sbagliato. Frisburgo no. Friburgo. Vabbè, dai, Frisburgo, Friburgo. Ah, il Fischburgo. Il Fischburgo, avete fame a quest'ora. Allora, Conference League, Lazio a Zeta, sembra un codice fiscale la prima partita. Poi c'è Juventus-Friburgo di Europa League che ricordiamo l'Europa League è come vale più della Champions, è come la Champions quest'anno. Roma-Re-A-Souciedad di Europa League sempre, la Roma non ha pescato un avversario molto malleabile. E Tottenham-Milan di Champions League. Camilla, Lazio a Zeta-Akmar, squadra olandese. Non c'è neanche Ciro. Io te l'ho detto che in Conference voi alla Fiorentina dovete andare avanti, se no la vincete quest'anno, la vincete più. Cioè, dai. Dico 2-1. Per chi? Per la Lazio. 2-1 per la Lazio. Gaddo, dato che hai visto Juventus-Friburgo giocare, Juventus-Friburgo di Europa League, altra occasione. Dai, ma le italiane devono andare avanti. Un bellissimo 1-0. Un bellissimo 1-1. 1-1, come Juventus-Nant, uguale. Quindi Juventus che andrà a Friburgo a giocarsi. Roma-Real Sociedad, chi la fa? La fa Luca? La fai tu, perché porto Inter c'è stima. E l'Uppacchiotto-Mastrangelo. L'Uppacchiotto-Mastrangelo. Real Sociedad non è una squadra sottovalutare. No, è quarta. È dietro Barcellona-Real Atletico. E secondo me, io ti dico che viene in fuoco un pareggiaccio 1-1. secondo me nel doppio confronto passa la Real Sociedad. 1-1. Chiudiamo con le coppe con Tottenham-Milan alla 1-1 White Hart Lane. E la super partita di Origi. Un gol lo fa Origi, la decide Origi. Sì, prima ci sarà e prima ci ha detto che la decide Origi. Per me è un 2-2. Ma l'abbè, hai detto che era decisivo. Hai detto pieta di Origi. Testione. Eh, pieta di Origi. Pensavo fosse più gara. Bello, mi piace che ti sei sbilanciato così. 2-2, quindi passiamo il turno.